Torna la rassegna ambientale L'Aria che respiriamo, che è promossa da Federconsumatori, Hauser e Spicci GL. Si tratta di un ciclo di passeggiate guidate dal botanico ambientalista Ugo Pellini. La prima tappa è Villa Gastinelli a Coviolo. Oggi vediamo il parco della villa delle due torri di Coviolo, così si chiamava nel 1800. Poi adesso invece è diventato, a seconda dei proprietari, Liberati Tagliaferri e ora Gastinelli. Il parco che ha degli alberi monumentali, proprio della fine dell'Ottocento, il più importante è sicuramente questo cedro deodara, che è della stessa età, forse anche di un'età superiore, dei cedri che sono ai giardini pubblici. Ma ci sono altre piante molto interessanti, tipo l'albero di Giuda che c'è qui, che è un albero che non cresce tantissimo e che ha questa bella fioritura con i fiori viola prima delle foglie in marzo. E poi c'è il residuo di quello che un tempo era un giardino all'inglese. Quindi andiamo alla ricerca delle piante ornamentali di questa villa ottocentesca con i dintorni delle vecchie coltivazioni, perché questa era la villa padronale con intorno tutte le coltivazioni. FederConsumatori, SPCGL ed Hauser hanno realizzato una rassegna dedicata all'ambiente. Abbiamo fatto una prima esperienza questa primavera visitando alcuni luoghi della città e della provincia, parchi pubblici e parchi di ville private. Ripetiamo questa esperienza in autunno per vedere il cambio della stagione. Ciò su cui ci concentriamo non è solo l'aspetto visivo della natura intorno a noi, ma anche l'importante impatto che ha sulla zona urbana e periurbana della nostra città, sia per qualità della vita, dell'ambiente, dell'aria, ma anche per il raffrescamento delle nostre città. Per questo cerchiamo di imparare che cosa abbiamo per proteggerlo, tutelarlo e permettergli di crescere nel futuro. Questa di fatto è la seconda rassegna autunnale delle passeggiate consapevoli. L'abbiamo chiamata foliage in francese o foliage in inglese o comunque il cambio di colore delle foglie autunnali. Noi avevamo già fatto una rassegna delle passeggiate in aprile, dove abbiamo visitato luoghi molto belli, anche un po' sconosciuti della città di Reggio. Abbiamo ripreso, questa è la prima iniziativa che facciamo, sempre a Reggio Emilia, Villa Gastinelli, poi continueremo il prossimo lunedì al Casino di Novellara e poi andremo il lunedì successivo, il 23 di novembre, a Villa Spalletti. Noi di Auser siamo felici di partecipare a queste iniziative perché i nostri soci ne ricavano un grande beneficio, sia nelle iniziative che abbiamo fatto relative alla tutela dei consumatori per quel che riguardava il mercato dell'energia, ma anche queste passeggiate ecologiche sono molto interessanti e riscuotono un grande successo. Poi Ugo Pellini è molto bravo nel catturare l'attenzione dei partecipanti con anche notizie storiche, notizie sulla natura che sono fondamentali e l'aria che respiriamo adesso è doppiamente importante. Prossimi appuntamenti in calendario, il 13 novembre a Novellara, al Casino di Sopra dei Gonzaga, e il 20 novembre a San Donnino di Casalgrande, a Corte Spalletti.